Essa ha anche un significato simbolico, il militare la porta del cuore, prima ancora di onorarla esteriormente. Ed è dinanzi ad essa che presta il suo solenne giuramento di fedeltà alla patria e alle sue libere istituzioni. Grazie. Il brigadier generale Gian Paolo Schenna, comandante della scuola trasporti e materiali dell'esercito, precede alcune formazioni montate su automezzi.